Questo video non è consigliato in fase post-digestiva. Forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Il tempo degli stimoli. Gli stimoli fiscali, gli stimoli monetari. E io che vi dicevo guardate che poi a botte di stimoli finisce che vai al bagno, no? Ecco, siamo in questa fase, puntuali come un orologio svizzero. Su per giù è lo stesso effetto che mi fanno le cicorie, le cicorie alesse, con un po' di peperoncino, olio e sale. Poi con l'aglio non vi dico. Facciamo un remake per quelli che magari non ricordano. No, 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 fermi, fermi. Partiamo dall'inizio. Partiamo da dove tutto ebbe inizio. Partiamo da dove tutto ebbe inizio. Partiamo da dove tutto ebbe inizio. Grazie. It's gonna be. It's gonna take a Superman to sweep me off my feet. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti